I numeri relativi, parliamo ancora di operazioni, nello specifico ora vedremo degli esempi di addizioni algebriche. Che cos'è l'addizione algebrica? L'addizione algebrica è una successione di addizioni e sottrazioni tra numeri relativi. Vediamo il caso più semplice, cioè una sequenza di numeri relativi scritti senza parentesi, come quella che vediamo ora, meno 9 più 3 più 8 meno 2 meno 6. Come procediamo in questo caso? Il mio consiglio è di individuare tutti i numeri positivi che sono più 3 più 8, li sommiamo, scriviamo il risultato qui più 11, poi individuiamo tutti i numeri negativi che sono meno 9 meno 2 meno 6, li sommiamo e scriviamo il risultato qui a fianco del nostro più 11. Poi eseguiamo il calcolo, più 11 meno 17 fa meno 6. Già fatto. Vediamo il caso un po' più complesso, cioè quello di una sequenza di numeri relativi scritti però con le parentesi. Per semplificare il modo di scrivere un'addizione algebrica possiamo eliminare le parentesi seguendo il seguente accorgimento. Se la parentesi è preceduta al segno più dovremo scrivere i numeri relativi ognuno con il proprio segno, tirando via la parentesi. Se la parentesi è preceduta al segno meno scriveremo al posto di ogni numero relativo il suo numero opposto, cioè il numero che ha come valore assoluto lo stesso valore assoluto ma il segno diverso. Anche in questo caso tirando via la parentesi. Vediamo qualche esempio più 6 meno più 2 più meno 7 meno meno 9 più 6 posso tirarlo direttamente via la parentesi se non c'è nessun segno è come se fosse più. Quindi tiro via la parentesi e lascio il segno che c'è più 6. Poi ho più 2 preceduto al segno meno. Cosa vuol dire? Se il segno davanti alla parentesi è meno io tirando via la parentesi devo cambiare segno. Scriverò quindi meno 2. Poi ho più meno 7 dentro parentesi. Il segno davanti alla parentesi è più quindi lascio se tiro via la parentesi lasciando il segno che c'è dentro la parentesi scrivo meno 7. Infine ho meno meno 9. La parentesi è preceduta al segno meno. Quindi tirando via la parentesi cambio di segno. Scriverò più 9. Siamo ricaduti nel caso che abbiamo visto nell'esempio precedente cioè una sequenza di numeri relativi senza parentesi. Voglio fare l'addizione algebrica. Individuo i numeri positivi che sono più 6 e più 9. Li sommo e scrivo il risultato qua più 15. Poi individuo i numeri negativi che sono meno 2 e meno 7. Li sommo e scrivo il risultato qui a fianco al più 15. Più 15 meno 9. Il risultato è più 6. Vediamo un altro esempio un po' più complesso. Più 9 più una serie di tre numeri relativi dentro la parentesi. Meno 3 meno 5 più 4. Infine più 2. Bene. Allora scriviamo più 9. Scriviamo i numeri dentro la parentesi. Li tiriamo fuori dalla parentesi. La parentesi è preceduta al segno più. Vorrà dire che posso scriverli così come sono senza effettuare nient'altro che tirare via le parentesi. Quindi meno 3 meno 5 più 4. E riscrivo il mio più 2. Ho semplificato. Adesso me riconduco al caso precedente. Quindi individuo i numeri positivi che sono più 9 più 4. Li sommo. 9 più 4 fa 13. Anzi c'è anche più 2. Ti do scusa. 9 più 4 fa 13 più 2 fa 15. Scrivo qua più 15. Poi individuo i numeri negativi che sono meno 3 e meno 5. Faccio la loro somma. 3 più 5 fa 8. Quindi meno 8 più 15 meno 8 fa più 7. Vediamo un altro esempio in cui davanti alla parentesi c'è il segno meno. Cioè questo qui. 12 meno più 2 meno 9 meno 4 meno 8. Scriviamo il 12 e poi tiriamo via la parentesi. Davanti alla parentesi c'è il meno. Vuol dire che scrivo tutti i numeri dentro la parentesi cambiando però loro di segno. Il più 2 diventa meno 2. Il meno 9 diventa più 9. Il meno 4 diventa più 4. Riscrivo il meno 8. Bene. Vado a cercare tutti i numeri positivi. Attenzione che c'è anche il 12. Non ha segno. Se non c'è segno è implicito il segno più. Quindi ho 12. Ho più 9 e ho più 4. Faccio la somma di questi tre numeri. 12 più 9 fa 21 più 4 25. Scrivo più 25. Faccio individuo i numeri negativi e poi li sommo. I numeri negativi sono meno 2 e meno 8. Sommati fanno meno 10. Esebo i calcoli. Più 25 meno 10 fa più 15. Alcuni di voi mi potrebbero chiedere a prof queste cose le so fare. Non so fare i calcoli quando abbiamo dei numeri scritti in forma di frazione. In questo caso ragazzi il problema non riguarda l'addizione algebrica, non riguarda i numeri relativi, ma riguarda le operazioni con le frazioni. Quindi vi consiglio di andare a cercare nel canale il tutorial in cui spiego come si effettua l'addizione, la sottrazione e poi successivamente anche la moltiplicazione e la divisione tra frazioni. Buon lavoro!